Il meteo di queste ore prevede la pioggia, ma la mancanza di precipitazioni ha condizionato fortemente il comparto agricolo. Gli eventi più significativi dell'anno sono stati a gennaio, ma sono stati due o tre giorni. L'indice di pioggia ci dice appunto che è mancata proprio la precipitazione e quindi anche i corsi d'acqua sono condizioni appunto non ottimali. In tutta la Toscana nel mese di marzo sono stati aumentati il 60% e meno di precipitazioni rispetto alla media. Dall'agricoltura arriva un segnale chiaro, un allarme per le conseguenze che potrebbero esserci per la prolungata siccità. Il rischio è vedere falcidiati quelli che sono i raccolti e le produzioni del 30%. La siccità sta appunto assumendo un fenomeno preoccupante anche nella nostra regione. Se piove in questi giorni la stagione aceralicola e anche quella delle semine primaverili può essere salvata e essere in tempo a fare anche una buona annata. Certamente se la guardiamo dal punto di vista della riserva idrica è chiaro che il deficit invernale ce lo portiamo dietro, per cui qualche preoccupazione in più per la stagione estiva e per l'approvvigionamento idrico c'è. Prezzi dei semi, dei concimi, delle materie prime sempre più cari, quindi un rincaro dovuto a quella che è ovviamente la crisi in Ucraina che si va a scontrare anche con quella che è la produttività e la siccità che porteranno soltanto disagi. Il rischio concreto della chiusura dei rubinetti del gas ci preoccupa tantissimo. Non c'è attualmente in Italia per fortuna un problema di approvvigionamento alimentare, ma non si sa. Livelli sotto il minimo storico per quanto riguarda i fiumi questo mese, gli effetti, i cambiamenti del clima si fanno sempre più sentire. Questo molto in mente rientra in un quadro dei cambiamenti climatici. Ci sono tutti gli elementi perché ce li sia un anno particolare, quindi speriamo appunto in qualche precipitazione in questo periodo da ora a giugno e vediamo se questa cosa riesce a equilibrare e non portare appunto a stagioni come quelle del 2012 o del 2017. Le falde acquifere del territorio fiorentino oggi preoccupano, mentre quella che è la diga di bilancino è nella norma.